Signor Presidente Mattarella, lunedì scorso, ancora una volta, ha voluto darci un consiglio, dicendo che non è accettabile ostacolare le vaccinazioni. Non sarà accettabile per lei e probabilmente per gli spericolati consulenti di cui si è valso. Io ne ho sentito degli altri, tecnici, scienziati, che alle loro competenze univano anche doti di buon senso, i quali hanno determinato che non è possibile somministrare vaccini se non dopo aver accertato clinicamente e profondamente eventuali incompatibilità biologiche e allergiche. Farlo è avventato e pericoloso. Visto che ambedue, lei ed io, siamo incompetenti in materia, la mia parola vale quanto la sua. C'è però una differenza. Il pulpito dal quale i presidenti parlano che spesso gli spinge verso l'abuso. Pulpito senz'altro più alto di quella disposizione di un cittadino che fa informazione come posso essere io. Ritrasmetto ora un giudizio che diedi su di lei ai tempi dello smembramento della Jugoslavia, trasmesso qualche anno fa dal blog di Beppe Grillo e da Arcoiris. Buon ascolto. Auguri al nuovo presidente Sergio Mattarella. Ne seguiremo passo passo l'operato, anche se dubitiamo che egli sia in grado di dire una parola nuova di equilibrio, di saggezza in campo internazionale. Perché lo ricordiamo tutti, filo atlantista, ai tempi della vila aggressione alla Jugoslavia. Quando ministro della difesa, si fa per dire della guerra, più propriamente del governo D'Alema, ebbe a dire. Con la caduta di Milosevic nei Balcani si apre una pagina nuova perché scompare nel nostro continente l'ultimo regime fondato su una visione nazionalistica ed espansionistica, etnica e su principi e ideologie ereditate dal totalitarismo. Parole in libertà queste, perché la Jugoslavia non voleva espandersi in nessun senso. Voleva semplicemente e legittimamente le venissero riconosciuti territori che storicamente le appartenevano. semmai questo discorso Mattarella avrebbe dovuto rivolgerlo agli Stati Uniti, che quanto a espansionismo sono presenti in tutto il mondo, ossessivamente. Allora non ci fu nulla da fare. Una forsennata propaganda martellante convinse i popoli di tutto il mondo, in particolare quelli europei, che era giusto intervenire con le armi in Jugoslavia per riportare democrazia e libertà. Poi, fatta a pezzi la Jugoslavia, si capì, se ce ne fosse stato bisogno, a cosa ambivano gli Stati Uniti, a impadronirsi di quel territorio dove oggi sorge una base nel nel Kosovo, detto anche Kosova, una mega base inaccessibile, talmente grande che il suo perimetro è di 84 chilometri di filo spinato con 11 torri di comando. È una città dove ci sono mezzi di trasporto e centrali per produrre l'energia elettrica. C'è anche una casa di tolleranza ad uso e consumo delle migliaia di militari americani sul posto, oltre ad armi di tutti i tipi, comprese probabilmente quelle atomiche. Ecco, noi rinnoviamo gli auguri al Presidente, sperando riesca a trovare il coraggio di raccontarci finalmente quelli che sono i rapporti segreti fra Italia e Stati Uniti, che da quando sono stati cacciati da molte nazioni del Sud America che ritenevano un loro possedimento, i famosi orticelli di casa, sono alla ricerca di altri giardini e giardinetti in Europa. Noi, sia per quello, siamo la Valle degli Orti, popolata di complici prezzolati.